Un'altra figuraccia ragazzi, un'altra figuraccia, l'ennesima, la cosa triste è che ormai non crea neanche più rabbia o delusione, amarezza, perché quasi ce l'aspettiamo, ormai no? Soprattutto contro una squadra come l'Atalanta che è in forma, che gioca bene, che è allenata bene, che ha programmato bene, sempre il solito discorso, il famosissimo discorso della programmazione che a tanti piace accantonare ma che in realtà è fondamentale, però è così, fatevi salutare. Ho l'ermanito, sono un G7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, un Mambroquart, un G7, lo tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le lavagnette, le racchette, non ho le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe o meno divertente di tutta YouTube Italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di Napoli-Atalanta finita 0-3, un'umiliazione totale, un'umiliazione che proviene da un primo tempo giocato in maniera ignobile, il peggior primo tempo della gestione di Calzona e che quindi ha condizionato un secondo tempo disputato anche in maniera dignitosa perché Napoli ha creato delle occasioni da gol, due con Ossimène, anzi tre con Ossimène con quel palo, il palo di Zierinski, il Napoli almeno un gollettino diciamo nel secondo tempo l'avrebbe meritato, infatti gli expected goals addirittura premiano il Napoli, il primo tempo è stato giocato in una maniera ignobile e se tu approcci una partita in una maniera ignobile vieni anche punito non solo dall'avversario ma anche dal dio del calcio perché anche il dio del calcio tende a punire quando si gioca in questa maniera perché il Napoli quest'anno non solo non è al top, non solo non sta facendo bene ma non è neanche fortunato ma la fortuna aiuta gli audaci e noi quest'anno di certo non siamo neanche audaci. Se vogliamo andare a parlare dei singoli, i singoli che si salvano sono Simeone perché è entrato bene, Gondre perché è entrato bene, Ossimène che nonostante abbia perso il duello con Ian è l'unico che non ha mollato neanche un centimetro e comunque è riuscito a creare tre occasioni da gol e Lobotka, è il solito Lobotka perché Lobotka è sempre Lobotka, fa sempre il suo, non sbaglia praticamente, mai niente, è costretto anche a fare il lavoro di altri è questo. Per quanto riguarda la partita in sé, il Napoli ha meritato sicuramente questa sconfitta, ripeto, soprattutto frutto del primo tempo giocato in una maniera imbarazzante continuo a non capire delle scelte di formazione, continuo a non capire il motivo per cui giochi Politano e non Gonge, perché in questo momento un Gonge è sicuramente qualche spanna sopra Matteo Politano, per quanto io voglia bene a Politano, ma io penso che poi uno gli faccia bene riposare due, a partita in corso lui rischia di essere devastante perché entra, risalta l'uomo, invece no, noi decidiamo di approcciare la partita sempre con gli stessi calciatori e purtroppo sembra essere che certe scelte vengano fatte solo perché il procuratore Mario Giuffredi ha un peso importante nella società sportiva calcio Napoli, non a caso anche oggi hanno giocato tutti i suoi assistiti, il fatto che Mario lui abbia giocato contro l'Atalanta non lo trovo comprensibile, è vero, magari vuoi uscire dal basso, tutto quello che vuoi tu, però contro l'Atalanta che è una squadra estremamente fisica, tu già non tieni Quarazchelia che ti dà la superiorità numerica metti Raspadori che comunque fisicamente non è male fisicamente perché ha dei tronchi al posto delle gambe però perdi tanti centimetri facendo giocare Raspadori metti Mario Ruino, metti Olivera che secondo me sarebbe stato molto più sensato, non l'ho capita questa cosa per quanto riguarda la difesa ho veramente poco da dire perché chi gioca gioca, non è che metti uno e quello è fortissimo metti l'altro, non esiste una scelta corretta secondo me difensivamente parlando a livello di letture Juan Jesus e Rachmani sono sicuramente migliori là in mezzo però a livello di cattiveria Ostigard e Nathan ci mettono qualcosina in più magari con Ostigard e Nathan prendevi un altro tipo di gol, con un'imbucata, non prendevi il gol a difesa schierata però prendevi il gol a difesa schierata ma non prendevi il gol che abbiamo preso mi sono rotto un attimo con Ostigard e Nathan non prendevi il gol a difesa schierata ma prendevi il gol con un'imbucata il gol che abbiamo preso ci sarebbero andati molto più cattivi Juan Jesus e Rachmani mancano di questo tipo di cattiveria ma ripeto lì in mezzo non è che ce ne sia uno che spicca il migliore dovrebbe essere Amir Rachmani che però se non ha uno forte 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 al suo fianco va veramente tanto in difficoltà io continuo a pensare che sia un difensore di tutto rispetto ma quest'anno non sta facendo bene per rendimento il migliore di quest'anno è proprio Juan Jesus che oggi ha fatto una partita molto ma molto ma molto brutta il Napoli è veramente in bambole il Napoli non riesce ad essere cattivo dietro il Napoli non riesce ad essere cattivo avanti arriviamo in porta grazie a delle situazioni casuali quasi non con ordine nel frattempo gol di Albert Gudmundson se vi può interessare che mi fa piacere perché ce l'ho al fantacalcio mi è arrivata la notifica lì mentre su Dazon dietro ha appena segnato per farvi capire quanto sta indietro Dazon incredibile in ogni caso male veramente male c'è tanto su cui lavorare l'obiettivo stagionale è ormai andato dista tanti 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 punti troppi punti questa doveva essere la partita che poi ci faceva avvicinare perché l'Atalanta viene al Maradona e invece stiamo sempre a pizze stiamo sempre in guaiata nelle prossime tre dovremmo avere comunque un calendario un calendario abbastanza abbordabile sperando di portare a casa nove punti ma veramente sembra quasi che siano amichevoli da adesso alla fine dell'anno che De Laurentiis prenda le palle in mano e capisca che quest'anno bisogna programmare seriamente se non si vuole finire veramente nel baratro se non ci siamo già perché questo non è il fondo si può ancora scendere si può ancora continuare a peggiorare la situazione e se non si fanno le cose giuste quest'estate l'anno prossimo rischiamo neanche di avvicinarci minimamente alla Champions ma di non essere neanche considerati il Napoli rischia veramente di fare così passare dallo scudetto a questo è una roba imbarazzante ed indegna e più ci penso più penso come sia possibile che si sia pensato che si potesse arrivare a questo punto facendo un mercato del genere prendendo degli allenatori del genere un preparatore atletico del genere lasciandosi sfuggire Kim lasciandosi sfuggire Spalletti Giuntoli Sinatti tutti quanti veramente quello che è stato fatto quest'anno è una roba imbarazzante e se lo si ripeto se lo si peggiora addirittura se non si semplicemente se non si fa 10 mila volte meglio quest'estate le cose non faranno altro che peggiorare e bisogna incominciare non da adesso ma da tre mesi fa bisognerebbe incominciare sarebbe si sarebbe dovuto incominciare una roba imbarazzante una roba vera quasi la cosa sensata sarebbe magari annunciare l'allenatore del prossimo anno già da adesso il direttore sportivo del prossimo anno già da adesso perché di certo non si può pensare di programmare una stagione con meluso con tutto il bene di questo mondo questo è quanto ragazzi mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete facebook instagram twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche G7 shorts il mio canale pubblico teleclippo venti conici momenti divertenti del canale tiktok preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta la vita forza natura grazie a tutti